Rinnovare fatturazione elettronica di Aruba è facile e veloce. Non ricordi quando scade? Entra nel pannello e guarda la data di scadenza. In ogni caso, tre mesi prima, riceverai un'e-mail che ti ricorda di rinnovare e non dovrai fare altro che cliccare sul pulsante Rinnova. Sarai immediatamente collegato alla pagina del carrello su cui eseguire l'ordine. Potrai riconoscere la sua username e verificare dall'elenco sotto Articolo quali sono i servizi aggiuntivi che hai attivi. In questa pagina dovrai confermare di voler rinnovare fatturazione elettronica e tutti i moduli che hai attivi. Se non vuoi farlo, rimuovili dal carrello cliccando sul pulsante Non rinnovare. I moduli avranno la stessa data di scadenza del servizio e il costo che visualizzi si riferisce al totale dei servizi acquistati. Se hai un codice convenzione, inseriscilo. Prima di procedere, puoi acquistare i moduli che non hai attivi o aggiungere spazio o utenti aggiuntivi. A questo punto, clicca su Prosegui e completa l'ordine. Indica per quanti anni vuoi rinnovare il servizio. Ti basterà aggiungere o rimuovere gli anni su Frequenza di rinnovo. Il massimo consentito è 10 anni. Vedrai il costo totale aggiornato in base alla scelta fatta. Ora scegli la modalità di pagamento del tuo ordine. Ricorda che il pagamento dovrà essere registrato da Aruba almeno 15 giorni prima della data di scadenza del servizio. Se scegli carta di credito o PayPal, la registrazione del pagamento sarà automatica e immediata. Se vuoi pagare con bollettino o bonifico, considera che potrebbero volerci 4 o più giorni lavorativi per la registrazione. Inoltre, scegliendo carta di credito e PayPal, attiverai il rinnovo automatico e, alla successiva scadenza, fatturazione elettronica si rinnoverà automaticamente senza che tu debba fare nulla. A questo punto, accetta le condizioni contrattuali e conferma. Non ritrovi l'email o vuoi rinnovare fatturazione prima dei 3 mesi dalla scadenza? Nessun problema. Clicca su Rinnova nella home page del pannello. Ricorda che visualizzi il pulsante solo se non hai attivato il rinnovo automatico. Sarai collegato alla pagina di carrello e potrai eseguire l'ordine, come ti abbiamo già indicato. Il servizio è scaduto e ti sei scordato di rinnovarlo? Non preoccuparti, hai ancora 90 giorni di tempo prima che venga cancellato. Il pannello, però, sarà accessibile in sola consultazione per le fatture inviate. Non potrai crearne di nuove o modificarle, ma solo scaricare le esistenti, mentre continuerai a ricevere le fatture dai tuoi fornitori e potrai consultarle. Superati i 90 giorni dalla scadenza, il servizio sarà cancellato e non potrai più recuperare i dati presenti nel pannello.